Benvenuti ad una nuova puntata di GCN Italia, siamo all'interno di Eurobike per cercare e mostrarvi alcune tra le cose più interessanti esposte qui. Siamo da OREKA Training che ha sviluppato un sistema molto interessante per l'allenamento indoor, non è un classico rullo ma sembra più un treadmill che si usa per la corsa. Bisogna agganciare la bicicletta in questo modo, si mette prima un adattatore al posto del perno passante al posto del quick release, si inserisce questa forcella sull'adattatore, una volta piegata va in tensione e blocca la ruota, a questo punto basta unire con questo pin e la bicicletta è ancorata e si può salire. Vedete si può anche sprintare o pedalare sui pedali, pedalare in piedi, fare anche volate massimali, molto interessante, la velocità viene sempre regolata, si può anche frenare in modo violento ma comunque la bicicletta rimane sempre all'interno dello spazio del treadmill. Bene, spero che questa puntata vi sia piaciuta, come sempre mettete un bel like se non l'avete ancora fatto, qui potete trovare un altro video, qui invece lo shopping online, se non siete ancora iscritti cliccate qui e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!